Stanchezza inarrestabile. Elimina questi tre alimenti e ritrova la tua energia. La stanchezza cronica affligge molti, riducendo qualità della vita e produttività. Un ruolo cruciale nel suo contrasto lo gioca l'alimentazione, che può influenzare direttamente i livelli di energia. Eliminare gli zuccheri raffinati è il primo passo per combattere la stanchezza. Questi alimenti provocano picchi energetici seguiti da crolli, lasciandoci più stanchi di prima e affamati di energia sostenibile. Ma, prima di continuare con questo video, voglio invitarti a lasciare un bel like. In questo modo ci aiuterai a far crescere il canale e a prendere iniziative come questa. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perdere altri video come questo. Gli zuccheri nascosti, spesso ignorati, sono presenti in molti prodotti confezionati. Il loro consumo regolare può portare a problemi di salute a lungo termine, inclusi sbalzi d'umore e maggiore stanchezza. La farina bianca, come gli zuccheri raffinati, può causare un ciclo di stanchezza perpetuo. Il suo alto indice glicemico incide negativamente sull'energia, provocando stanchezza e letargia dopo breve tempo. Le farine raffinate, prive di nutrienti essenziali, incidono negativamente sul metabolismo e sul benessere generale. La loro eliminazione può portare a miglioramenti significativi nella gestione dell'energia e nella riduzione della stanchezza. Il terzo alimento da limitare fortemente nella propria dieta è l'alcol. Consumare bevande alcoliche può seriamente compromettere la qualità del sonno, portando a un risveglio meno riposante e a maggior stanchezza. Esiste un legame diretto tra il consumo di alcol e la sensazione di fatica durante il giorno. L'alcol riduce la fase del sonno profondo, impedendo al corpo di riposarsi adeguatamente. Questo può portare a un circolo vizioso di stanchezza e consumo di sostanze stimolanti. Per sostituire gli zuccheri raffinati, si possono esplorare opzioni più salutari e naturali. Gli edulcoranti naturali come il miele o lo sciroppo d'acero, pur essendo ancora zuccheri, portano con sé nutrienti aggiuntivi e hanno un impatto meno drastico sulla glicemia. Le alternative alle farine bianche sono altrettanto variegate e nutrienti. Scegliere cereali integrali non solo apporta una maggiore quantità di fibre, ma migliora anche la gestione dell'energia nel corpo, contrastando la stanchezza. Per ridurre il consumo di alcol, si possono scoprire bevande dissetanti e piacevoli, che non incidono negativamente sulla salute. Acqua aromatizzata naturalmente, tisane e succhi freschi possono diventare delle valide alternative per mantenere il corpo idratato e pieno di energia. Adottare un cambio di dieta duraturo richiede impegno e consapevolezza. È fondamentale identificare alternative gustose che soddisfino le voglie senza ricorrere a cibi dannosi per la salute. Piccoli cambiamenti quotidiani possono portare a benefici a lungo termine. L'importanza dell'idratazione nel combattere la stanchezza non va sottovalutata. Bere acqua regolarmente aiuta a mantenere il corpo energizzato e supporta il metabolismo. Sostituire bevande zuccherate con acqua è un passo cruciale verso il benessere. Integrare l'attività fisica nella routine quotidiana potenzia l'efficacia di una dieta sana. L'esercizio regolare non solo combatte la stanchezza, ma migliora anche l'umore e la salute generale. Iniziare con attività leggere può essere un buon punto di partenza. Organizzare la spesa in modo consapevole è essenziale per evitare cibi nocivi. Dare priorità a prodotti freschi e non lavorati aiuta a resistere alla tentazione di acquistare alimenti pronti ma dannosi per la salute. Esplorare ricette facili e rapide senza zuccheri raffinati, farine bianche e alcol può essere un'avventura culinaria. Questi piatti non solo nutrono il corpo, ma soddisfano anche il palato, rendendo il percorso verso la salute più piacevole. Le testimonianze di coloro che hanno eliminato zuccheri raffinati, farine bianche e alcol dalla loro dieta raccontano di una trasformazione profonda. Molti riferiscono un aumento dell'energia e una diminuzione della stanchezza cronica. Queste storie ispirano e motivano, dimostrando l'impatto positivo che piccoli cambiamenti alimentari possono avere sulla nostra vita quotidiana. Tenere un diario alimentare e di energia aiuta a monitorare i progressi e individuare gli alimenti che influenzano la nostra salute. Questo strumento diventa essenziale per comprendere meglio il nostro corpo e le sue reazioni, guidandoci verso scelte alimentari più consapevoli e benefici per il nostro benessere. Una dieta priva di zuccheri raffinati, farine bianche e alcol può portare a miglioramenti significativi nel lungo termine. La riduzione della stanchezza, un miglioramento dell'umore e un aumento generale del livello di energia sono solo alcuni dei benefici che possono essere sperimentati. Resistere alle tentazioni richiede forza e determinazione, ma con strategie adeguate e il sostegno di una comunità, è possibile mantenere scelte alimentari salutari. Celebrare i piccoli successi e ricordarsi dei benefici a lungo termine può aiutare a rimanere motivati. In conclusione, il viaggio verso una vita meno stanca e più energica inizia con piccoli cambiamenti nella dieta. Eliminare zuccheri raffinati, farine bianche e alcol può sembrare una sfida, ma i benefici per la salute e l'energia sono incommensurabili. Lasciatevi ispirare dalle storie di successo e intraprendete oggi stesso il vostro cammino verso il benessere. Siamo giunti alla fine di questo video. Ti ricordo che puoi iscriverti al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche nei prossimi video in programmazione. A presto!